Cari amici di Teletermini, buongiorno. Oggi ci troviamo qui in compagnia di due genitori del Iucopitato spontaneo che si è formato e che purtroppo si forma quasi ogni anno per incentivare il Comune nel riconoscere alcuni diritti ai bambini che hanno un piccolo handicap, piccolo grande handicap. Allora Peppe Profitta, raccontaci un po' come è andata questa cosa, perché ieri emergenza, oggi pare risolto. Vediamo cosa è successo. Sì, grazie all'aiuto nostro spontaneo ai genitori, senza nessuna forza politica che abbiamo noi bussato, perché in questo momento è giusto dire le cose anche in questo momento particolare. Già da tempo sappiamo che il rito annuale dopo l'inizio dell'anno scolastico, quello diciamo ovviamente di gennaio, quindi dopo l'anno solare, quindi succede che ahimè ci comunicano i genitori in maniera molto così triste, che i vostri bimbi a scuola pur se andranno non troveranno il diritto all'assistenza igienico-personale, alla comunicazione. Quindi se in maniera molto drastica e anche un po' drammatica un bimbo o una bimba dovesse avere un'esigenza fisiologica non c'è nessuno che l'accompagni in bagno, a meno che non chiamano il genitore e quindi lascio a voi immaginare. Abbiamo già noi genitori, come ha detto bene, un gruppo così spontaneo cercato di sollecitare questa situazione al comune già prima che iniziasse proprio l'anno solare scolastico, ci hanno detto vedremo, stiamo facendo il tutto, quindi abbiamo sollecitato. Finalmente questa mattina... Questo dai servizi sociali? Dai servizi sociali, sì, che loro si sono impegnati, l'è l'ho amministrativo, però sapete la macchina burocratica di ogni amministrazione è molto farraginosa perché ci sono settori che si accavallano, il quarto e il quinto settore, quindi a noi giustamente genitori non possiamo andare dietro a questa macchina, però il nostro sconforto è anche aiutato dalla nostra collaborazione. Settori che a quanto pare non comunicano, oggi abbiamo scoperto, no? Sì, manca la comunicazione purtroppo. Quanto, cosa è successo? Oggi siete andati lì, insomma, con un po' il dente avvelenato per questa situazione e cosa avete scoperto andando tra un ufficio e l'altro che distanziano quanto? 50 metri? Sì, forse 50 metri. Un settore aveva già redatto la, diciamo, determina che l'altro settore aveva già comunicato a loro, però guarda che si è appreso che una dirigente di un settore era ammalata, quindi era in malattia e ovviamente se c'è una persona ammalata deve prendersi qualcuno la briga, la responsabilità di firmare la determina, però se un genitore non è lì, a sollecitare affinché questa firma venga apposta, ricordo come i film di Bud Spencer e così siamo così e purtroppo, se non c'è il genitore che ha l'esigenza necessaria primaria di essere lì a guidare il percorso dell'amministrazione, tutto rimaneva come in attesa che ritornasse il dirigente che ahimè era ammalato. Insomma, in parole povere, mancava una firma, mancava l'ultima firma che facesse iniziale il processo di avviso alle cooperative. Certo, certo. E sono stato personalmente lì con il dirigente, il dottore Scimeca, che è stato anche solerte. Ovviamente ci sono tante termine messe da firmare, però ci sono delle esigenze che sono particolari, hanno una certa rilevanza, perché non portare i figli a scuola per queste cose sarebbe una cosa diciamo ridicola e quindi questa mattina finalmente questa metta firma è stata fatta, quindi adesso si rimetterà in meccanismo la macchina della... In che tempi vi hanno detto che si ritornerà alla normalità? Ecco, ci hanno detto che in settimana sarà fatto tutto, perché poi una volta firmata le termine bisogna comunicare sia alle scuole il ripristino del servizio e anche alle cooperative, ma in poche parole già dal lunedì dovrebbe essere sicuramente al 100% attivo il servizio. Naturalmente in questi giorni di vacanza, diciamo di contrattuale, i vostri bambini sono rimasti a casa, perché come fanno ad andare a scuola e non poter assolvere a quelle che sono le esigenze fisiologiche normali? Alcuni sì, alcuni sono rimasti a casa, altri sono andati comunque con chiaramente le difficoltà, perché se un bambino che porta dei tutori deve andare in bagno, è chiaro che anche il personale ATA, per quanto possa essere stato istruito a questa pratica, è chiaro che non è adeguatamente preparato o quantomeno ha il terrore a toccare un bambino di questo tipo, così come se ci sono dei bambini femminucce e quindi magari il bidello è maschio, la cosa diventa un po' più antipatica. Quindi diciamo che alcuni sono andati, alcuni sono rimasti a casa. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, diciamo così, grazie ai genitori che stimolano gli uffici comunali, le cose funzionano, quindi comunque penso che bisogna essere determinati e uso un termine un po' leggermente incacchiati, però nel giusto, avere riconosciuto i nostri diritti, perché volete che paghiamo le tasse, dateci i diritti e noi sicuramente miglioreremo questa città che ha bisogno tanto che venga veramente data una smossa, anche all'interno del comune, dagli impiegati, incominciamo a essere un po' tutti, dico tutti quanti, il nostro ruolo che rivestiamo di qualsiasi livello, incominciamo a passarci a mano sulla coscienza e dire facciamo il nostro lavoro, impegniamoci di più, non solo i politici ma anche gli impiegati, questo è un appello che noi genitori facciamo. Prima di andare in malattia magari lo passiamo al collega. Sarebbe anche importante che ci dessero le giuste comunicazioni, perché noi da tre settimane che stiamo facendo la spola tra il municipio, quindi con il commissario e con gli uffici preposti, perché chi ci dice che bisognava aspettare un bilancio, chi bisognava aspettare un bilancio, la previsione di bilancio del 2016, quindi noi genitori non avevamo conoscenza di questa situazione, probabilmente a saperlo prima anche gli stessi consiglieri comunali scusate, non hanno saputo darci le giuste informazioni. Quindi noi spontaneamente siamo dovuti andare a fare la spola tra i vari uffici per arrivare a questa soluzione. Avessimo saputo prima, probabilmente i bambini non sarebbero stati tre settimane a casa ad aspettare questa cosa. I bambini come anche gli operatori che chiaramente contavano di tornare a lavorare. Bene, allora vi devo fare gli auguri per il prossimo l'anno scolastico che continua regolarmente, per i vostri bambini e per tutti coloro i quali hanno finalmente nuovamente il loro diritto rinnovato anche per quest'anno a termini merese. Grazie.